Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale Oggi proveremo la demo di Arrailed Allora, ci dice di premere uno spazio per continuare Ok G, H, to change your appearance G, H Mi piace il cowboy, attenzione, aspetta, aspetta Ne ho trovato uno più bello, dov'era? Non c'è? Chi è questo? No? No, no, no Oh, il biscottino, wow, il biscottino è bellissimo Pinguino Ok, andiamo di cowboy Settings Vediamo se c'è la lingua italiana C'è Abbiamo l'italiano, ok Dividi accesso, rimuovi accesso, non so cosa sia Ok, giochiamo al tutorial Generazione mappa Benvenuto nel tutorial Cerca di muovere il personaggio con V, A, S, D Accetta V, A, S, D Ci sono Per accelerare premi shift Ok Shift Per fabbricare i nuovi pezzi di binario ti servono legno e ferro Prendi l'ascia con lo space bar Quindi una barra spaziatrice E abbatti l'albero Posizionandosi accanto ad esso Diciamo che finalmente è qualcuno che ha messo i testi giganti Ah, proprio Così, no No, no Quindi Ah, lo fa da solo Ok, adesso fai lo stesso con il piccone E sulla roccia Perfetto Prendiamo questo Poso questo No Poso questo Prendo questo E lui in automatico Picconeggia Ok Metti sia il legno che il ferro nel vagone di stoccaggio Per far creare il nuovo pezzo di rotaia Il vagone di produzione Poi usa il pezzo di rotaia per continuare il binario Mmm Quindi Prendiamo questo Mettiamo qua Prendiamo questo Mettiamo qua Ok E poi vado qui Prendo questo Qua Ok Per poter continuare a costruire attraversando il fiume Ti occorrono legno e ferro Prendi il legno e posizionano sul fiume Poi Collega i binari Il legno? Ma veramente? C'è ancora col legno? Ok Posi questo Metti qua Ah ce ne serve altro di legno No Questo è finito Poi ci serve il piccone Ok E poi questo No? Serviva legno? No Voleva questo? Non lo so Questo? Ah ok Ho capito Ho capito Io posso Avvantaggiarmi Del fatto di prendere questi Metteli qua nel container E poi posizionare questo Il treno col tempo si riscalderà E comincerà E comincerà a prendere fuoco Costruisci un ponte verso il secchio E riempielo al fiume Ok Ok Quindi vuole un ponte Legno Posiamo Prendiamo Camminiamo di qua e qui creiamo questo Prendiamo il secchio Prendiamo l'acqua Ah no fa in automatico scusa Ora usa il secchio per spegnere il fuoco I vagoni che prendono fuoco non possono essere usati Quindi andiamo qua Prendiamo questo Lo riempie Andiamo qua No 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 Ok Riempi ok L'ho dimenticato che c'era lo shift E puoi fare uno scatto Per comunicare con il tuo team Usa la ruota dell'emoticon tenendo premuto control E selezionando un emoticon con AVSD Puoi visualizzare l'altro emotico con spacebar Ok Tipo control Ah ok Perfetto Se il treno raggiunge la fine del binario hai perso Buona fortuna Quindi Tipo yeah Ma ma Vabbè Ok Proviamo il locale Perché Non sappiamo giocare Difficoltà Mettiamo facile Il seed È questo Attiva checkpoint Va bene Salvataggio Scegli Salvataggio Scegli Ok Abbiamo il gioco Proviamo il locale Prima Per non fare brutte figure E quelli? No no Aspetta Questi non me li avevi detti però Ah chi sono questi? Se giochi da solo il bot ti aiuterà Ah ok Perfetto Grazie Puoi dargli comandi usando le emoticons Tenendo premuto control Ok Tipo Ferro Ma Conviene fare così? Credo di sì Quando è che parte il treno? Ah posso farne di più Ma posso prendere Un ferro alla volta? No Ok Mi ho preso di più Se vuoi che il bot funzioni a lungo Che funzioni a lungo Un percorso Nel pressione specifico Puoi istruirlo usando Aspetta Bot Usando Q Ok Ah ok Vai qua Ok Q Perfetto Così Siamo a posto Io però non so Quando parte il treno Mi serve il legno Se vuoi che il bot funzioni a lungo Ok L'ho fatto Però Se ne è fregato il bot Cioè Ok Q Facciamo così Se il bot Se il bot Ovesse incontrare Dei problemi Si informerà Con usandone emoticon Va bene Allora facciamo così Parti da qua Fai così E Fai così Fai così Ok Adesso dovrebbe partire il treno In teoria Poi prendiamo questo Ok Selezioniamo Questo fa così Control Bot Mi serve legno Vai Ok Si Ci vogliono Più persone Per fare questo lavoro qua Ci troviamo Ma quelli mi rubano le cose Questa la posizioniamo qua È difficile Ok Allora mi serve Legno Due Vai 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 Ok Dai 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 Ok vai Eh no Ah eccolo qua Il legno L'ho preso Ah Ci serve l'acqua Vabbè lo spegne lui Ottimo 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 Bravo bot Grazie bot A me non mi aiuta Uno Vai 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 Bot 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 Vai vai Permesso Grazie Vai 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 Madonna mia E devo dire che è divertentissimo Ma anche difficilissimo Farlo Soprattutto quando si è da soli Ok Questo qui E poi facciamo Q No Cacchio Annulla Control Due Mi serve caricare Dobbiamo andare All'altra stazione Dobbiamo scendere Dai 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 Dammi 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 Quindi Dobbiamo andare qua Qui Cos'è No Ce n'è un altro Cacchio Perché quello sta Facendo Quella cosa lì No Ok No Levati Lo so che ti sei arrabbiato Un attimo Se in cavola Il robot Se ti ci metti davanti Se in cavola Intanto Faccio Faticare Perdo Le cose Ok No Questi alberi Qua no Allora Uno Due Poi prendiamo Quest'altro Lo mettiamo Qua Cos'è che ci manca Via Questo Qua Poi Prendiamo La pietra Ci serve La pietra Prendiamo I legni Prendiamo Questi qua Dai che siamo arrivati all'altra stazione Ok Ottimo Wow L'acqua 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 Wow Puoi usare I tuoi bulloni Per dare miglioramento Sui vagoni C'è un N Trova faceva rima C'è un nuovo miglioramento Velocità Di crafting Più 60% Ah Lo attacchi Così No Ma che figata Non ci posso credere Ma che figata No per un nuovo motore No Per un nuovo motore Che sblocchi Il bioma successivo Raccogli semplicemente gli oggetti E portali a bordo Del tuo treno Un motore a vapore migliorato Per il selvaggio west Eh però non me lo fa prendere Questo qui cos'è Migliora l'efficienza dei vagoni Decenti Ti consente di passare Dall'altro lato Non in senso figurato Progece dinamite E maneggiare con cura Ok Eh ma non me lo fa Magari non ho Quattro vagoni Boh Non lo so Forse devo togliere questo Boh Vabbè Ah ok No Non c'ho punti C'ho solamente un bullone Ne vuole quattro Ok Andiamo Ripartiamo Ok No 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 Allora Tu fai pietre per favore Che non ne abbiamo Perché è tutto buio adesso? E ci sono le mucche qua Ma Se facciamo riempiamo questa E la posizioniamo qua Poi andiamo qua Ma che ci fanno le mucche? Io non so Aspetta che il bot è fermo E diciamo di fare Il Il due C'è ovvero il legno Ok Madonna E' allucinante Ah ci sono le pietre Ok perfetto Produciamo questi qua Questi binari Andiamo qua Questo Fai Fai Le pietre Le pietre Le pietre No no Questo Questo Madonna mia Vai 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 No no Perché l'hai tolto? Pietra 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 Altre pietre Altre pietre Che non le vede le pietre? Q Niente non gli piace Vabbè Uno Due E qua? Come passiamo? Eh No io passerei da qua Ma mi servono Le pietre Don ciccio Eh vabbè Fai così va Due Faccio io le pietre va Ho capito Perché non le fa? Ah perché le pietre Sono lì ferme Acqua 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 Madonna mia L'acqua L'acqua Dov'è? Qua dietro Corri Acqua Acqua Si è spento Meno male che è piovuto Guarda Pietra 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 No 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 Pietra 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 Via 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 Vagoni Vagoni Rotai Rotai Questi E poi Prendiamo le rotaie E dobbiamo scendere In basso L'ho visto L'ho visto Vai tranquillo Ok Dov'è? Questo qua Ok Prendiamo questi E facciamo così Uno Due Che cavolo c'ho in mano Che cavolo c'ho in mano Allora Pietre 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 Mi servono le pietre Corri 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 Prendiamo questo Vai vai Produci Produci Ce la facciamo così? Senti Sai che ti dico? Facciamo così Andiamo Quello sta a produrre Un sacco di pietre Ottimo Come si fa? Tre Produci Vagoni No Che sta a fare? No Se ne è scappato Permesso Ok Ok Produci le pietre Nel frattempo Facciamo così Io me ne vado di qua E prendo queste Queste qua E le posiziono qua Lui produce E le mettiamo qua Vai 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 Che l'ha tolta? Una sola Ne ho Via 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 Perfetto Poi Due Fino a quando piove E ottimo Questo No Qua Deve mettere Ah scusa Ho sbagliato Stai fermo Ho premuto control Scusate Allora Vai di qua Prendi queste Le porti qua E produci Nel frattempo Che lui produce Andiamo a prendere Le altre pietre E le posizioniamo Qui Cacchio Se passa lui Non posso più passare Poi Ah no Meno male che ce l'ho qua Serve il legno Tanto legno No c'è C'è il passaggio Vedi che abbiamo fatto di qua Perfetto Il secchio di acqua Ce lo portiamo Di all'altra parte Non si sa mai Ma ha tolto Ok Quindi ogni tanto Li prende Poi Li lascia Non lo so Fa un po' in automatico Ogni tanto Li prende in automatico Ogni tanto no Poi li mettiamo Poi li mettiamo di nuovo Questo Poi li mettiamo di nuovo Questo E poi li mettiamo Questo Perfetto Così abbiamo Il legno Già pronto Ok Abbiamo raccolto Anche questi E li mettiamo qua Dobbiamo salire Ah Ho preso solo uno Uno Vai vai Spacca tutto E qua Ci siamo Dai 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 Cacchio Mi servono dei binari Subito Immediatamente Perché adesso Incomincia A fare i capricci Lui Vai E però non riesco a prenderlo Poi Me ne da solamente uno Ogni tanto Via Ce l'abbiamo fatta 60 metri Wow Che è successo Grazie per aver giocato Alla demo C'è molto altro Da scoprire Nel gioco completo Noi biomi Vagoni E tant'altro Dai un'occhiata Alla nostra pagina Steam Per ulteriori informazioni O per acquistare La versione completa Del gioco Signori Possiamo concludere Qui appunto Questa demo Che ci fa capire Moltissimo Del gioco E mi sono veramente divertito E credo Che giocarci con gli amici È esilarante Quindi Lo proverò In co-op Trovate il link Di steam In descrizione Per supportare il canale Basta un like E un commento E se vi va Iscrivetevi pure Come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye Ciao 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 Ciao